Buongiorno, sono Angela Mantisi di Abitate Group. Oggi ci troviamo a Torino in corso Caglioprino per una nuova esclusiva immobiliare. Vi accompagno. L'appartamento al secondo piano è ristrutturato in ogni sua parte ed è composto da due camere da letto, una cucina abitabile e un bagno con doccia. La zona è ben servita. A poca distanza troviamo le scuole dell'Istituto Comprensivo di via Sidoli e le scuole superiori Copernico-Lussemburg. Raggiungibile a piedi l'Esse Lunga col suo vasto assortimento di prodotti. La stazione dell'Ingotto dista soltanto 500 metri, crocevia per ogni direzione. Molti sono i motivi per comprare questa soluzione appetibile. Mentre sosseggio un buon caffè vi faccio ancora notare questa cucina nuova. Mi può interessare? Fissiamo un appuntamento che ne parliamo insieme. Grazie a tutti.